L'ordine degli architetti, ingegneri e geometri di Teramo lanciano l'appello per denunciare la difficile situazione di criticità delle procedure per il super bonus al 110%. I vantaggi messi in campo dal governo per le ristrutturazioni edilizie hanno scatenato una corsa agli interventi che secondo gli ordini provinciali rischiano di trasformarsi in una dolorosa beffa per cittadini e imprese. Il problema è drammatico e non solo per il bonus 110. Quando si parla di semplificazione purtroppo noi tecnici sia degli enti pubblici che dei libri professionisti siamo terrorizzati perché in realtà viviamo una quotidianità di burocrazia che oramai ha messo in secondo piano la parte tecnica del nostro lavoro e siamo diventati dei semplici passacarte. È necessario agire immediatamente il nuovo governo a livello legislativo ma anche la regione approvando il piano regionale paesistico e una nuova legge urbanistica regionale modificando il decreto del Presidente della Repubblica del 380 a testo unico sull'edilizia in maniera tale che i tecnici possano tornare a fare i tecnici e soprattutto si abbia certezze nel lavoro sia per noi sia per i clienti perché non si può iniziare con dei bonus e poi in corso d'opera cambiare e lasciare tutti all'incertezza soprattutto a livello economico. L'appello che gli ordini terramani hanno rivolto alla regione e al futuro governo mette in evidenza tanti altri aspetti negativi che stanno ritardando e rendendo di fatto impossibile la piena attuazione delle misure previste dal super bonus nei tempi stabiliti per legge. Quando io ero Presidente dell'Ordine degli Architetti nel primo convegno che facevamo in provincia di Teramo sul super bonus purtroppo fui facile profeta preannunciando alcune criticità che poi si sono avverate anzi sono peggiorate nella quotidianità. Il problema è che molti cittadini poi dovranno pagare quello che in realtà credevano fosse un bonus. Di conseguenza questo sta causando il rischio default delle imprese esposte finanzieramente che sebbene abbiano nei loro cassetti fiscali importanti somme non possono disporre per il blocco della cessione alle banche. Certo, imprenditori e professionisti hanno investito tempo e risorse anche economiche confidando nella serietà dello Stato. Purtroppo questa serietà è voluta meno.